Le 9.30 puntuali ben trovati ancora all'ascolto, io sono Andrea De Angelis, questa è Radio Vaticana con voi, benvenuti soprattutto a voi amici di Facebook che ci seguite per questa nuova diretta social, scrivi, commenta, condividi perché oggi parliamo di bellezza, lo dicevo un attimo fa, microfoni spenti con l'ospite che tra un attimo vi presenterò, a volte parliamo anche troppo di bellezza, ne parliamo male, a volte la parola bello viene usata in maniera impropria, cerchiamo di capire anche come avere cura della bellezza partendo dall'utilizzo corretto del termine, ma lo facciamo tutto questo per presentare anche e soprattutto un corso che avrà inizio il prossimo 20 febbraio. Ringrazio allora per essere con noi la preside dell'Istituto Accademico Ecclesiastico Ecclesia Mater, Claudia Caneva, professoressa ben trovata. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Siamo dunque in diretta su Facebook, quei social che magari vedete anche io ho un telefono qui con me, a volte si utilizza professoressa anche in aula, in questo caso però sollecitiamo chi è all'ascolto a scriverci perché vogliamo che siate voi a porre soprattutto delle domande. Io le chiedo innanzitutto di presentare questo corso, da dove nasce l'idea di un titolo che ci sollecita davvero a tutti, aver cura della bellezza, sappiamo aver cura della bellezza? Allora, il corso nasce da un invito, da un invito che noi abbiamo colto di Papa Francesco quando ha detto invito ad aver cura della bellezza, perché la bellezza curerà tante ferite che segnano l'animo degli uomini e delle donne dei nostri giorni. Questo aver cura e anche nella laudato sì, Papa Francesco sottolinea in maniera molto incisiva questa relazione che c'è tra un'educazione estetica e quindi un'aver cura della bellezza e un ambiente sano. Le parole di Papa Francesco ci hanno colpito perché prestare attenzione alla bellezza, aver cura della bellezza appunto è riuscire ad uscire da un pragmatismo utilitaristico perché se si ammira e se si riesce a recuperare quel senso dello stupore nei confronti della bellezza, Papa Francesco dice che non è strano che ogni cosa si trasformi, se non si è capace di avere questo senso dello stupore, questa sensibilità alla bellezza, non è strano che ogni cosa si trasformi in oggetto di uso e abuso senza scrupoli. Quindi da questo invito noi abbiamo pensato di un progetto didattico in realtà, un corso di alta formazione, un progetto didattico che si sviluppa su due ambiti paralleli. Uno vuole essere ovviamente un percorso che sia in grado di fornire degli strumenti operativi, anche metodologici, pratici, di corretta fruizione e di valorizzazione del patrimonio. Noi abbiamo un patrimonio incredibile a livello mondiale, questo appunto a volte non è compreso, perché poi i temi ispiratori della maggior parte del nostro patrimonio artistico sono di tipo religioso. Salutiamo Maria, ciao Maria, saluto anche Nunzia, un saluto anche a te, poi ancora Anna, Alberto, Teresa, ci state mandando dei cuori, dei sorrisi, mandateci anche i vostri commenti e vi ricordo se vi piace questo argomento, ciò di cui stiamo parlando, l'aver cura della bellezza, condividete sulla vostra pagina personale questa diretta in modo che la possano vedere anche i vostri amici. Sono le 9.34 professoresse ed è arrivato il momento, secondo me, di parlare, come dicevo un attimo fa, dell'uso del termine, della parola, perché lei mi spiegava prima, lo riveliamo a chi ci sta seguendo da casa, che a differenza di altri popoli, gli italiani e quindi la lingua italiana usa la parola bello anche accanto a dei sostantivi dove altri magari usano la parola buono o cattivo. L'Italia è sempre stato un punto di riferimento per gli artisti, la sensibilità estetico-artistica italiana è stata maestra per tanti artisti che sono venuti in Italia, ma in ogni caso anche nella lingua, lo dicevamo prima, spesso si dice un brutto raffreddore o un bel incontro. In altre lingue, come per esempio l'inglese, si dice invece un cattivo raffreddore, quindi si ha un'idea estetica anche per quelle che sono cose che non riguardano la sfera artistica nello specifico. Quindi questa sensibilità forse va recuperata. Dicevo appunto di questa educazione estetica perché riteniamo che questa percura della bellezza possa ritrovare l'idea che la bellezza è un, come dice anche Papa Francesco, un alleato prezioso. Un alleato prezioso perché intanto a livello antropologico, lei mi diceva appunto io sono antropologa, riesce a riunire sia mente che sentimenti, quindi ragione e sentimenti. E nello stesso tempo quel senso dello stupore può riuscire a riformulare una modalità comunicativa diversa, anche di convivenza, di rispetto della dignità della persona. Non è un caso che si individua nella bellezza anche appunto questo sentire comune che mette insieme più persone alla ricerca della verità, della bontà e che possono appartenere anche a tradizioni religiose diverse. Quindi l'arte riesce a mettere insieme, ha un ruolo importante anche. E' arrivata una domanda da Simona, è possibile? Ciao Simona intanto, buongiorno, grazie per averci iscritto. Lanciare, chiedi alla nostra ospite, un progetto didattico anche nel sistema educativo italiano, oltre a parlare della bellezza in modo interdisciplinare. Dunque immagino che Simona si riferisca alle scuole, è pensabile questo? Allora questa domanda è una domanda molto appropriata perché noi abbiamo un problema, perché siamo eredi di una... abbiamo l'eredità moderna che ha distinto ragione e sentimento e quindi la storia dell'arte per esempio ha un ruolo molto marginale all'interno della scuola, così come la musica. La musica forse arriva alle medie e poi la scompare dai curricula scolastici. Quindi è chiaro che noi siamo eredi anche di questa mentalità, dove chiamiamo competenze non cognitive, per esempio tutto ciò che riguarda la relazionalità, l'empatia, adesso sono state inserite nell'ambito del curriculo scolastico. Quindi dobbiamo anche combattere contro questa resistenza, perché la storia dell'arte e tutta la dimensione della bellezza riguarda anche la dimensione del sentimento. Ci scrive Anna, un saluto anche a te Anna, la bellezza ci fa vedere con occhi diversi il mondo e le persone che ci sono accanto. La diversità, la prospettiva del soggetto rispetto all'oggetto, è oggettiva la bellezza, lo è talvolta o non lo è mai? Allora, la bellezza, diceva Tommaso, è ciò che piace dopo averlo visto e quindi ha comunque questa dimensione concreta, anche di senso, che coinvolge i sensi e quindi c'è un'oggettività, ma non ci si ferma solo all'oggettività. Nel senso che la bellezza ha questo di caratteristico, che non ti inchioda alla materialità, ma ti obbliga a farti una domanda. Anche le espressioni delle opere artistiche contemporanee, che spesso a livello proprio anche di sensazione non sono piacevoli, però poi ti richiamano a un'interiorità che si è posta di fronte a una domanda, per esempio che sono le costanti antropologiche, il dolore, l'amore, il rapporto con Dio, che si è manifestata e si è preso forma in quella maniera, con quell'inciso musicale, con quella tonalità di colori. E quindi la bellezza ha questo di oggettivo, cioè che ti richiama nei sensi, ma ti obbliga e ti orienta verso qualcosa di più profondo, che è poi l'interiorità di chi ha fatto l'opera d'arte. Lei parlava di domande, le vostre sono arrivate, ne facciamo una, ne faccio io una a voi a questo punto, ma concretamente, visto che la nostra ospite parlava anche di concretezza, come riuscite a costruire, a coltivare nelle vostre vite la bellezza, quali sono le attività, le buone abitudini, anche talvolta i rischi che prendete per porre la bellezza al centro. Scrivetecelo su Facebook, per chi ci sta seguendo in diretta video, ma anche su WhatsApp, e sono tanti i messaggi che arrivano al 335 12 43 722, ancora dalla Sicilia Michele, poi Paolo, Mario, Rita, salutiamo tutti loro, ancora un saluto a Carlotta, e poi ci scrive Massimiliano, un caro saluto alla professoressa Caneva, complimenti per l'idea di un percorso sulla bellezza. La bellezza è oggi una via, ritengo, privilegiata per l'evangelizzazione. Poi ancora un saluto da Maria, ma su questo aspetto dell'evangelizzazione, è così? Ci conduce a Dio la bellezza? La bellezza, beh, se lei pensa che la parola bellezza è ricorrente nel magistero della Chiesa Cattolica, ma anche perché si parla di porta che apre all'infinito, insomma di varie cifre del mistero. La bellezza, proprio perché non ci inchioda la materialità, non è un'esperienza, l'esperienza artistica o estetica, non è un'esperienza religiosa nello specifico, ma sicuramente ci mette in contatto con le grandi domande di senso. È da lì che parte poi la questione di Dio. Arrivano ancora commenti e risposte alla nostra sollecitazione. Per me la bellezza è sapere ascoltare. Che bella questa risposta di Francesca. E poi ancora su WhatsApp. Maria, è bello ciò che è vero, onesto e non prova invidia. Altra sollecitazione, l'invidia che è diversa dalla bellezza. Un'ultima domanda, prima di salutarci e di salutare tutti voi che ci state seguendo in diretta audio e video. Come educare, ci chiede ancora Simona, i giovani alla bellezza in un tempo in cui prevale la logica del tutto e subito. La bellezza non è tutto e subito. In realtà noi siamo sulle emozioni shock, quelle adrenaliniche. Quell'idea del recupero di una contemplazione, di un tempo per la contemplazione, è sicuramente legata a un'educazione affettiva. Noi siamo in un contesto dove appunto questo processo di industrializzazione, di accelerazione, come diceva lei, di rapida accelerazione, dove i valori predominanti sono una scientificità senza cuore, la bellezza recupero la dimensione del cuore. E quindi di una verità esistenzialmente significativa e non, come diceva Nietzsche, appiccicata addosso come un vestito. Presidente, è andata bene la diretta. All'inizio avevamo qualche timore, ma lo dico soprattutto a chi è in ascolto video e ci sta seguendo e commentando. Grazie dunque a Claudia Caneva, preside, lo ricordo, dell'Istituto Ecclesia Mater. Abbiamo presentato questo corso che avrà inizio il prossimo mese, il 20 febbraio, Aver cura della bellezza. Magari ci torneremo, ci torneremo una volta che avranno avuto inizio le lezioni. Ci racconta anche come va. Sì, come vanno. Dunque ci salutiamo per ora in video, continuate a seguirci in audio. Domani, attenzione, per chi ama questo spazio di Radio Vaticana con voi in diretta social, e l'appuntamento è con Luca Collodi, ma soprattutto è in un altro orario, alle 8.20. Dunque anticipiamo un po' questo nostro spazio in diretta video. Vi saluto, vi ringrazio, continuate a seguirci in radio. Ciao. Grazie. 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 Grazie.